date su di qua voi? allora noi andiamo di la andiamo di la andiamo di la perché di qua stanno salendo loro sia mai che ci troviamo in mezzo tra me e a fagiano tu ce l'hai l'antiproiettile addosso? ecco allora magari facciamo che andiamo a quello dopo l'ho dimenticato ehehehehe vorrei invitarvi le provate superienza ma diventa peggio su? un pezzettino è brutto sono ciotoloni però secondo me scivola si Grazie a tutti E' arrivata Andrea e mi fa Ho paura che l'Himalaya non ce la fa Sì Caputo? Ma se è così no Quanto è? Quanto è? Eh, questo è il pezzo più brutto Questa moto serve dappertutto Sì, ma è pronti le gomme, non è la moto Ma va che tiene, eh Cioè, per quello che deve fare Questa è il pezzo più brutto Sì No, perciò non dico Sì Non so come va arrivare a mezzo Non so come va arrivare a mezzo Sì, guardate va va, io non ci salgo di là, vorrei far notare questo se vuoi andare avanti tu non è un problema, attento dobbiamo ritornare da dove sono entrati dai instagram è l'umidità si sente non è che sei allergico al navigatore non è che sei allergico al navigatore è che non sai dove metterlo su quella moto su questa ma anche sull'altra che potrei metterlo è che non è che sei allergico al navigatore 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 è che sei allergico al navigatore